Ai ragazzi raccontano la mia storia, io ero uno studente come loro, studiavo architettura a Napoli e ho cominciato a fare l'animatore per bambini per guadagnare qualche soldino. Da lì ho cominciato ad appassionarmi a questo lavoro, ho provato a fare delle esperienze, ho provato a sperimentarmi, ho messo in un'altra passione, tanta determinazione e non mi sono mai fermato, neanche davanti alle difficoltà, neanche davanti a quelle cose che potrebbero scoraggiare chiunque. In questa storia ovviamente tengono fuori dei piccoli suggerimenti che i ragazzi possono tornare utili e questo è il secondo anno che torniamo ad Urbino, è il secondo anno che noi portiamo in giro per l'Italia questa grande carovana dell'entusiasmo e della positività. L'incontro gira proprio intorno a questo, alla passione, ai sentimenti, al coraggio di cadere e ovviamente di rialzarsi. Più si cade, ed è quasi una fortuna, più si diventa bravi a rialzarsi. E quindi ai ragazzi, in maniera anche un po' provocatoria, auguro tante cadute, tante porte in faccia, perché più ne arrivano, più si diventa forti, robusti, più si allargano le spalle e più davvero si può urlare, non ci ferma nessuno.